Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre Mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti i sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, Sorana Regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna. Guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella Divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna e della mia volontà finché me la scambi con la Divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo Senno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Dal Libro di Cielo, volume 26, 24 luglio 1929 Come la Divina volontà tiene l'atto primario su tutte le cose create. Esso è come il capo sulle membre. Stavo pensando al Fiat Supremo e pensavo tra me. Il volere divino vuole formare il suo regno in mezzo alle creature. Ma pensavo, come si trovava la Divina volontà in rapporto alle creature prima della venuta di Nostro Signore sulla Terra, quando venne e dopo che è venuto? Ed il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto Figlia mia, la mia volontà con la sua immensità è stata sempre in mezzo alle creature perché, per natura sua, non c'è punto dove uno si trova e dove le creature possano fare a meno di esse. Sarebbe lo stesso non poter avere vita né percepirne. Senza la mia Divina volontà tutte le cose si risolverebbero nel nulla molto più che l'atto primo di tutte le cose create è il mio Fiat Divino. Esso è come il capo alle membre. E se uno volesse dire posso vivere senza il capo ciò gli riuscirebbe impossibile. È la più grande delle pazzie solo pensarlo. Però il regnare è un'altra cosa. È l'essere riconosciuta, amata, sospirata e pendere da essa come pendono le membra dal capo. Questo è il regnare. Stare in mezzo alle creature, invece, non è regnare perché non si pende del tutto da essa. Ora, la mia Divina volontà prima della mia venuta sulla Terra sebbene con la sua immensità stava in mezzo alle creature tuttavia i rapporti che c'erano tra essa e loro erano come se essa vivesse in terra straniera e le creature e le creature da lontano ricevevano le scarse comunicazioni le brevi notizie che annunziavano la mia venuta sulla Terra. Quale dolore stare in mezzo a loro ed esse non riconoscerla e tenerla tanto lontano dalla loro volontà come se stesse in terra straniera. Con la mia venuta siccome io possedevo la Divina volontà come vita e la mia umanità la riconosceva l'amava e la faceva regnare per mezzo mio si avvicinò alle creature ed i rapporti che essa teneva con loro erano come se abitasse non più in terra straniera ma nelle loro terre. però siccome non la conobbero né gli diedero il domino e di farla regnare non si può dire che il mio volere divino formò il suo regno. Dunque la mia venuta sulla Terra servì ad avvicinare le due volontà umana e divina e metterle in intime relazioni ed aumentare le notizie per far conoscere la volontà divina tanto che insegnare il Padre Nostro col far loro dire venga il regno tuo sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Se il mio volere non vive come in cielo così in terra non si può dire che tiene il suo regno in mezzo alle creature. Perciò nel tempo del regno di essa non solo lei starà in mezzo a loro ma dentro ciascuna creatura come vita perenne. e per giungere a ciò deve essere riconosciuto come essa stia come capo e vita primaria di ciascuna creatura. Ma siccome questo capo non è riconosciuto non fluisce nelle membra la sua forza la sua santità la sua bellezza né fa scorrere il suo sangue nobile e divino nelle vene di esse e perciò non si vede della vita del cielo nelle creature. Ecco perciò amo tanto che la mia divina volontà sia conosciuta la conoscenza farà sorgere l'amore e sentendosi amata e sospirata si sentirà tirata a venire a regnare in mezzo alle creature. prima dell'inizio della meditazione una piccola nota in un secondo momento rispetto alla diretta ho dovuto provvedere alla rilettura del brano che avendo diverse difficoltà e errori di resa in italiano e di interpunzione nella prima lettura non era stato letto adeguatamente quindi si sentirà dire nella meditazione che la lettura era molto molto difficile lo era sono intervenuti in un secondo momento per rileggerla in modo tale che almeno anche la comprensione del testo risulta comprensibile così la meditazione è più fluida grazie Luisa dice il volere divino vuole formare il suo legno in mezzo alle creature questo è un dato di fatto allora però lui dice prima della venuta di nostro signore quando è venuto e dopo che è venuto in che modo si trovava la divina volontà in rapporto alle creature perché poi questo è ciò che spiega Gesù com'era la divina volontà in rapporto alle creature prima della sua venuta con la sua venuta e dopo la sua venuta facendo degli step molto importanti e tenendo presente che purtroppo specialmente per quelli che campano come se Gesù non fosse venuto mai nel senso che hanno il cuore lontano dall'amore di Dio molte cose che Gesù dice relative a prima della sua venuta di fatto per moltissime persone sono ancora attualissime perché per molti ahimè e ci sono anche non pochi battezzati tra questi molti Gesù è come se non fosse venuto mai nel senso che o è un illustro sconosciuto o è una persona con nessun significato nell'esistenza di questi poveri fratelli e sorelle come se non ci fosse proprio zero c'è una meditazione che amo fare alla notte di Natale sui misteri caudiosi del Rosario di un padre gesuita di Mario Giuliani che dice per molti Gesù conta meno di un ombrello dell'abbonamento al tram parole diciamo così a amare forti ma purtroppo ahimè non lontane dal vero e allora Gesù spiega una cosa molto semplice la divina volontà che prima che Gesù venisse allora domina tutto e quindi non può non stare in mezzo alle creature sotto quale punto di vista questo lo spiega bene San Tommaso tante volte durante le meditazioni l'abbiamo spiegato però questo è un punto fondamentale che dobbiamo ben capire anche perché come tutte quante le cose di fede non è evidente allora Gesù fa un esempio può stare un corpo senza il capo ci sarebbe pazzia solo pensarlo cioè se qualcuno di noi pensa che si può tagliare la testa e il corpo continua a vivere cerchi una ghigliottina e faccia la prova insomma cioè è un pazzo che pensa una cosa di questo genere ecco attenzione però che la divina volontà nei confronti di tutti gli enti creati ma tutti è dall'atomo di una pietra fino al principe degli angeli quindi andiamo dalla più piccola particella della materia che è il grado più basso inanimata fino alla forma più alta di esistenza che è appunto la creatura angelica nel suo principe attuale cioè San Michele nessuno di tutto e di tutti potrebbe conservarsi nell'essere quindi non soltanto aver avuto l'essere per il quale ci vuole un atto creativo comunque di Dio ma conservarsi nell'essere senza un'azione positiva della divina volontà San Tommaso d'Aquino nella prima parte della Somma Teologia quando parla della divina provvidenza perché la divina provvidenza è anzitutto questo prima di quello che noi intendiamo comunemente con divina provvidenza cioè il principio del mantenimento e della conservazione nell'essere di tutte le cose attenzione se la divina volontà per assurdo smettesse di mantenere nell'essere anche una sola cosa atomo o creatura per esempio me attenzione non è che io morirei perché con la morte la morte non è altro che l'estremo conseguenza del peccato quindi c'è il distacco dell'anima dal corpo e il corpo non casualmente che col peccato originale ci ha avuto molto a che fare va in putrefazione ma l'anima può andare in putrefazione d'accordo quindi non ci si può fare niente ma se la divina volontà smettesse di conservarmi nell'essere non è che io morirei perché ripeto morire non significa perdere l'essere significa semplicemente pagare il prezzo estremo del peccato quell'anima che avrebbe potuto essere eternamente unita con il corpo e condividerne ininterrottamente le sorti si separerà e il corpo andrà in putrefazione c'è solo un corpo che non ha subito questa cosa che è il corpo di Maria tocca pensarci noi ci pensiamo per esempio che gli organi di Maria dopo gli organi corporei cioè il fegato il pancreas i polmoni la milza i reni il cuore i muscoli le unghie i capelli sono gli stessi che ci aveva sulla terra gli stessi tanta roba questa qui per nessun altro essere umano sarà 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 questo non ha pagato il tributo alla morte noi si però anche se questo non è evidente perché adesso siamo sotto gli orizzonti e il regime della fede con la morte non c'è la dissoluzione nel nulla c'è semplicemente un altro modo di essere questo bisognerebbe anche questo metterselo bene in testa perché così se uno capisse che credesse veramente che con la morte non è che c'è la fine di tutto ma dopo cominciano e ci si presenta davanti a Dio pensiamo anche chi è tentato al suicidio che pensa che con la morte la faccio finita ma non la fai finita manco per niente non la fai finita manco per niente perché con la morte cominciano i guai se tu vuoi affrontare la morte in quel modo non è che la fai finita cioè passano i guai della vita terrena che a te sembrano così grandi ma poi cominciano i guai seri ora tutto sto discorso per dire se la divina volontà cessasse di provvedere a qualunque ente tornerebbe nel nulla da cui è venuto cioè facciamo l'esempio di Don Leonardo Don Leonardo cesserebbe di esistere l'anima di Don Leonardo non ci sarebbe più non è che se ne va all'inferno in purgatorio in paradiso come tutte quante le anime dei trapassati ci sarebbe una dissoluzione nel nulla una scomparsa cosa che Dio non fa mai d'accordo perché è contrario al suo essere perché una volta che Dio crea una cosa se quella cosa l'ha creata quella cosa è buona e se quella cosa è stata creata viene mantenuta nell'essere se quella cosa creata si va a corrompere per colpa sua come accade ai demoni e alle anime dannate Dio non la rinnega e la continua a mantenere nell'essere secondo il grado di essere e di vita che ha e se è un essere immortale come un angelo o come un uomo quanto la sua parte spirituale quell'essere vivrà eternamente punto Dio non gli toglierà mai la vita che gli ha dato chiaro questo non lo farà mai di Dio possiamo dire poche cose con certezza perché quando qualcuno come dire paneggia i diavoli saranno annientati i diavoli non saranno annientati ma questa è proprio una cosa ma più sicura sicurissima al 100% Dio non annienta nessuno e non annienta niente di quello che ha fatto ci sono certamente dei gradi di essere che sono condizionati al tempo per come lo conosciamo in questo mondo ma lì ci sono anche se uno legge il libro di Tenera Mata ci sono delle prospettive molto molto interessanti per quanto riguarda la quinta dimensione e l'eternità creata cioè certamente gli animali muoiono certamente e non vanno in paradiso perché non c'hanno l'anima ma adesso non approfondisco questo tema perché poi bisogna capire alcune cose tra l'altro non molto semplici che in quel testo si trovano no quell'arco di tempo in cui gli animali hanno vissuto è il loro arco di tempo è la loro vita e nell'eternità creata quella vita si mantiene e quando noi saremo morti questo spiegatene l'amata nel momento che entriamo nella eternità di Dio in cui l'eternità creata scorre quindi in cui tutto è presente noi ritroviamo li ritroviamo i nostri animali non perché sono andati in paradiso ma perché si trovano in quell'arco di tempo che quando saremo morti sarà da noi come dire transitabile navigabile con la più totale e assoluta libertà questa è una prospettiva molto molto interessante evidentemente una liberazione privata quindi liberissimi di credere o di non credere io la ritengo altamente convincente altamente attendibile anche per per alcune considerazioni molto profondamente teologiche che sottostanno a questo discorso comunque stop perché se no non andiamo alle cose più importanti quindi e quindi alla luce di questo pensiamo semplicemente a gli esseri umani che campano infischiandosene totalmente di colui che li ha creati e colui che li mantiene nell'essere cioè pensiamo a gente che bestemmia cioè se Dio volesse non lo farà mai ma non solo che avrebbe la possibilità di punirlo di castigarlo di mandare il più brutto male che esiste oppure di di farlo morire saluta stante e sbatterlo nell'inferno non solo questo potrebbe annientarlo sul serio cioè farlo scomparire farlo scomparire e non lo fa ora queste cose noi le conosciamo per mezzo della fede e alla fede bisogna crederci perché tutte le verità di fede come spiega sempre il grande San Tommaso hanno una caratteristica intrinseca cioè che sono il contrario dell'evidenza sono inevidenti anzi all'apparenza molte volte spesso e volentieri sembra proprio il contrario uno potrebbe dire che è la volontà divina mi mantiene nell'essere ma io non sento niente non l'ho mai vista ma dove sta d'accordo no? quindi comprendiamo bene queste dimensioni questo dice Gesù però il fatto che la divina volontà stia in mezzo alle creature in questo modo non ci può non stare ma questo non significa niente perché questo non è regnare il regno della divina volontà perché il regnare significa cosa? ecco per esempio che tutto quello che vi ho detto anzitutto viene riconosciuto da noi quindi già sappiamo che la divina volontà ci fa questi regali ininterrotti ci ha creato da nulla ci ha dato l'essere e ce lo mantiene in vita e quindi già questo è un ottimo motivo per amarla conoscerla ringraziarla eccetera eccetera no? quindi il regnare dice Gesù è l'essere riconosciuta poi amata e poi sospitata fino a che punto? eh questo fino al punto in cui arriviamo lo lo decidiamo noi pendere da essa come pendono le membra dal capo cioè ecco quando è che regnerà la divina volontà? noi sappiamo che tutto quello che facciamo io adesso sto parlando perché è la mia testa che mi fa parlare cioè ma qualunque movimento che noi facciamo anche i movimenti inconsapevoli se io che ne so muovo un piede meccanicamente mentre sto parlando tocco qualcosa gesticolo lo sappiamo oggi dalla scienza che sono tutti quanti i segnali che partono dal cervello tutto 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 certo il cuore è il principio che se il cuore cessa di battere il cervello addio quindi se ne va in malora nel senso che il cuore può battere se è quello colletto in ciclogramma piatto ma non viceversa però parte tutto dal cervello allora la divina volontà dice quando è che regnerà in te quando farà in te ce lo vuole quello che fa è la tua testa con tutto te stesso cioè quando fa tutto tutto cioè ripeto anche i movimenti inconsapevoli cioè se io o che sto parlando per esempio ho una penna in mano per sottolineare il libro digitale e ricordare i punti importanti da meditare poi finito di sottolinearla la tengo in mano magari uno ci giochicchia un po' quelle cose che facciamo inconsciamente no? anche quell'operazione lì la sta come dire la sta dirigendo il cervello se mi viene da grattarmi che abbiamo i piccoli pruritini da grattarti un attimo la testa quello è un gesto che tu fai meccanicamente avverti il prurito e ti gratti ma sia l'avvertimento del prurito che parte dall'epidermide e arriva al cervello sia la risposta parte sempre dal cervello quindi d'accordo quindi dovremmo arrivare a questo livello ecco allora Gesù dice quindi in questo step la divina volontà sta in mezzo alle creature come in terra straniera quindi proprio come zero assoluto come la del tutto sconosciuta e ripeto questa situazione ahimè vale anche oggi dopo la venuta di Gesù perché ripeto per molti Gesù è come se non fosse venuto ahimè e tra questi molti ripeto ci stanno anche purtroppo battezzati cattolici secondo step dice la mia divina volontà quindi prima della mia venuta stava in mezzo alle creature come se vivesse in terra straniera e quale dolore dice Gesù stare in mezzo a loro ed essendo riconoscerla e tenerla tanto lontano dalla loro volontà come se stesse in terra straniera ripeto non sto diventando un po' pedante questa purtroppo è realtà ordinaria per molti con la mia venuta dice Gesù che cosa è successo che io la divina volontà la divina volontà la possedevo la possedevo come vita la mia umanità la riconosceva l'amava e la faceva regnare l'umanità santissima di Gesù Cristo è stata ininterrottamente soggetta alla divina volontà pur avendo una volontà umana propria e distinta da quella divina attenzione a non cadere nell'eresia del monotelismo quindi Gesù aveva una volontà umana come la nostra ma in essa faceva regnare ininterrottamente la volontà divina cosa che del resto faceva anche Maria Santissima anche se evidentemente come Gesù spiega in Gesù la divina volontà regnava per natura in Maria regnava per grazia perché la Madonna è una creatura invece Gesù è Dio e quindi evidentemente il titolo è profondamente diversa quindi che succede a questo stadio come dire la divina volontà poiché aveva già abitato la terra mia e la terra di Maria Santissima diciamo che si era un pochino avvicinata quindi stava in mezzo alle creature non come se stesse in terra straniera ma come se fosse nella propria terra però c'è sempre un c'è sempre un piccolo problema che tu puoi restare nella nella propria terra ma se le creature non ti riconoscono e non ti chiedono di regnare stai nella tua terra ma comunque non regni e allora dice Gesù allora che cosa ho fatto ho insegnato il Padre Nostro perché a che cosa serve il Padre Nostro il Padre Nostro serve a a fare in modo che la divina volontà che già si trova a casa propria perché ha regnato sull'umanità di Gesù e di Maria quindi adesso conosce di nuovo dopo l'interruzione con Adamo cosa significa regnare in una natura umana però perché regni in tutti gli uomini deve essere chiamata poi deve essere conosciuta riconosciuta amata allora la prima cosa che Gesù ci ha insegnato innanzitutto è chiamarla e invocarla venga il tuo regno sia fatta la tua volontà e attenzione come in cielo così in terra e qui ritorniamo a ribadire alcuni concetti che dal momento della venuta di Gesù in poi per tutti i santi la legge cosa vuol dire diventare santo santo significa fare con perfezione la volontà di Dio su questo non c'è mai stato nessun dubbio e quindi si va al lavoro con l'ascesi con la santificazione per cercare di aderire sempre più perfettamente a tutto quello che Dio vuole questo è già tanto ma ancora non è come in cielo così in terra ancora non è regnare ancora non è possedere la divina volontà come vita che questo è il terzo step l'ultimo step come sappiamo è quello a cui il Signore vuole portare all'umanità e a cui chiama chiunque entra in contatto con il mondo della divina volontà come in cielo così in terra attenzione cioè allo stesso modo di come la divina volontà vive in cielo stiamo tranquilli che in cielo si vive solo di divina volontà non c'è altro d'accordo è un cantare in interrotto di inni la divina volontà non c'è nient'altro cioè la divina volontà è il principio di tutto è il principio di ogni di ogni beatitudine di ogni tutto che c'è nell'altro mondo quindi come in cielo così in terra H24 senza interruzioni no zero interessantissimo notare quando la Madonna risponde all'Arcangelo Gabriele ecco l'ancella del Signore anche qui ci torna travolta l'amico avvocato amato che lo ha acutamente notato in una sua presentazione del Magnificat dice giustamente che ancella anche se in greco in latino è ancilla in greco il termine è dule il modo peggiore per rendere per rendere quello che la Madonna faceva è serva perché serva è molto poco d'accordo serva è una persona che sta a servizio part time lo schiavo invece sta a servizio full time però attenzione lo schiavo non è detto che stia sempre a contatto col padrone perché lo schiavo aveva una sua mansione particolare per cui si sta nella casa del padrone ma non sta sempre a contatto con lui invece l'ancella ed è così anche per i romani come dire era lo schiavo privato cioè colui che stava H24 che non aveva altro compito di essere l'ombra del padrone sempre a sua disposizione sempre pronto sempre sempre fianco a lui H24 a disposizione non facendo nessun'altra cosa tu non devi stare né al forno né al giardino né alle pulizie devi fare tutto che ti dico io devi stare a mia disposizione assoluta H24 7 su 7 e la Madonna era proprio così ma questo significa vivere nel regno della divina volontà questo è vivere nel regno della divina volontà è H24 7 giorni su 7 a questo tendiamo ecco Gesù questo lo ha introdotto con il Padre Nostro e fino a quando questo non accadrà perfettamente dice nel tempo del regno di essa non solo starà in mezzo a loro attenzione come a casa propria e non solo avrà cominciato a regnare perché l'hanno riconosciuta ma starà dentro ciascuna di esse come loro vita perenne come loro vita perenne diventerà il cuore del nostro cuore come il cervello nei confronti del corpo ma anche come il cuore nei confronti del resto del corpo cioè il cuore io ce l'ho dentro cioè non è che devo dargli l'ordine guarda adesso batti poi adesso fai una corsa quindi porta i battiti a 90 perché se no non funziona fa tutto da solo cioè non c'è bisogno che lo istruisco io e però tutto quello che io sono beneficia ininterrottamente dall'attività del battito cardiaco e dalle regolazioni di essa che sono perfettamente programmate da nostro signore presiedute da quella bellissima cosa che è la nostra anima che le fa senza che noi ci stiamo a pensare evidentemente no e quindi prima che questo succede spiega Gesù deve essere riconosciuta come essa sta a capo vita primaria di ciascuna creatura ecco perché ho fatto quel discorso cioè il primo step è che tu devi capire di cosa stiamo parlando noi stiamo parlando del principio dell'essere della conservazione nell'essere di tutte le cose questo è importantissimo questo qui noi stiamo parlando per fare il secondo step del principio di ogni beatitudine nella divina volontà non esiste né il male né la non beatitudine e questo accadrà anche sulla terra sulla terra rimarrà ho detto tante volte la sofferenza il dolore e la croce perché queste sono lo strumento con cui viene distrutto il peccato e su questa terra purtroppo fino a quando staremo su questa terra qualcuno che pecca ci sta e quindi ci deve essere qualcuno che il peccato lo distrugge attraverso la sofferenza offerta però attenzione la sofferenza offerta la croce non tolgono la beatitudine quando c'è come non gli hanno tolto a Gesù crocifisso e basta leggere il dolore della passione lo dice lui stesso dice io stavo in un mare di dolori ma ero felicissimo perché perché stavo facendo la volta del padre ecco ed ecco quindi gli step con cui conclude Gesù quindi spero che adesso con la meditazione questo testo così farraginoso e diciamo scritto in maniera un po' maldestra si è diventato un pochino più chiaro l'ultimo capoverso è chiaro amo tanto che la mia divina volontà se sia conosciuta perché la conoscenza farà sorgere l'amore perché la divina un bene così grande non verrà se tu non l'hai desiderato non l'hai amato non l'hai invocato e sentendosi amata e sospirata si sentirà intirata a venire a regnare in mezzo alle creature e allora sì che comincia la vita ma la vita la vita vera la vita degna di questo nome grazie a tutti grazie infinito Signore Gesù per queste comunicazioni che anche oggi ci hai donato gratuitamente e che ci fanno comprendere la grandezza e la potenza della tua divina volontà e anche la nostra creaturalità totale e l'importanza è che cosa significa farla venire a regnare e a dimorare come vita nel nostro cuore abbiamo citato ecco con lei che è andata alla grande in questo perché dall'istante dal primo istante del suo concepimento fino ad adesso perché non c'è stato lei non sa neanche che cosa significa è una fonte di grande letizia pensare alla Madonna lei non sa neanche che cosa significa un mondo senza divina volontà la Madonna forse non sa che cosa significa quindi non lo sa quindi beata lei ecco noi non potremo purtroppo giungere almeno a questo però se tu ci farei questo grande regalo ci metteremo in condizioni di riceverla potremmo dimenticare cosa significa vivere senza divina volontà dimenticarcelo quindi lasciarcelo come una cosa che appartiene a un passato lontano e che non tornerà mai più perché sicuramente in paradiso non tornerà e speriamo che una volta raggiunto non torni mai più mai più nemmeno su pianeta Terra nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen ti benedico per aiurarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria